guarda al futuro l'avrò mandato quando ormai sarà iniziata la stagione di salve a tutti ragazzi siamo con un altro video di fortnite con voi vincent caccia l'oggetto primo video dell'ultima partita sono andato meglio sono riuscito a vincere l'asconditore direi di salire e di trasformarci magari in un libro però saliamo ancora di più magari riusciamo a vincere una seconda volta che ne so mi metto qua dietro magari non mi vedono comunque uno verrebbe a vedere in effetti qui dietro però non lo so è complicato che riescano a vedere qua dietro perché comunque è un posto molto stretto siamo 5 nascosti ancora che siamo ancora rimasti in vita inoltre qui non è come a minecraft se venivi scoperto diventavi il cercatore mentre invece qui muori e basta inoltre non dovrebbe arrivare qui anzi no non voglio parlare qua acqua fresca ah siamo in due rimasti perfetto 3 2 1 abbiamo vinto o almeno io sono riuscito a sopravvivere poi perché mi trovo in questa posizione non lo so fra la parte del cercatore e cerchiamo spero di fare qualcosa di buono vai cerchiamoli tutti come nelle ovette kinder oh brutto mascalzone dove sta? ah ah t'ho beccato ah 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 aspettate sento uno ah è che non t'ho visto vabbè ma è impossibile da colpire questo ah ah bello mio ah ah eh no non mi scappi caro mio dove sei? ah ah sconfitta ma sei serio? non lo so non lo so volete fare voi i dj ma che fate? ma siete scemi? oh ah ah oh trovato ah 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 fatto male a muoverti caro mio oh quanta vita quanta vita c'hai magari qualcuno sta qua sopra invece no eh però si vede un bel paesaggio eh se riesco a vincere anche da nasconditore ma non lo so se abbiamo vinto eh io mi trovavo in prima posizione magari è una cosa che sta stesa no dai devi passare ehi non hai scuse oh me li sento sempre vicini mamma mia che ansia aspettate bisogna prendere anche le monete non mi ero proprio ricordato di questo particolare vittoria concludiamo questa puntata con questa vittoria schiacciante devo ammetterlo due uccisioni fatte così per regalo beh insomma io direi che con questa puntata possiamo finirla qui spero che vi sia piaciuta noi ci vediamo con la prossima puntata spero che questa vi sia piaciuta se questo è stato mettete un bel mi piace commentate e iscrivetevi se non l'ho ancora fatto buonanotte ragazzi o quello che è e iscrivetevi al canale e iscrivetevi al canale e iscrivetevi al canale